Quello è uno sieve Non ci credo Fiamo finta di niente Voi non avete visto niente Io allora me ne vado un attimo così Almeno finisco di andare a fuoco e vai quanto è bello andare a fuoco Ho perso tutta la vita Ciao Che è l'8 È il 9 Ok è il 9 febbraio quindi è festa Io non ho scuola Molti di voi non hanno scuola Però io dovrei pure andare a teatro Quindi tipo dopo di questo devo andare pure a teatro Quindi spero di riuscire Bastardo Dove finirci dentro Ok siamo su Demon's Breeds Che è un bel po' che non la giocavo E quindi ho detto perché no Sarebbe figo riuscire a portarla È uscita come mappa Quindi Quindi grande felicità Questo periodo Ci stanno veramente veramente tante mappe Vecchie Non so perché Mi hanno messo che escono tutte queste mappe vecchie Comunque Oggi volevo dirvi che Ho trovato finalmente il nome Della texture Perché vi ringrazio a tutti per avermeli suggeriti In grande In grande numero veramente Mi avete dato tanti tanti bei consigli E alla fine ho deciso un nome È ancora da ultimare Sono ancora leggermente indeciso Tra Tra due nomi Uno Mind Desolation O Desolation Mind Mi sa che è Mind Desolation No Non è Mind Desolation è uno che me l'ha suggerita Io ho preso Mind E era indeciso tra Combustion Mind O Mind Combustion Poi vado a vedere un attimo come metterli Come è più corretto l'inglese E E poi Se no Qualcosa sempre con Fire Con questa tipologia Era un po' indeciso Infatti adesso Deve un attimo vedere Poi un'altra cosa che volevo dirvi Ho ultimato l'arco Adesso ve lo faccio vedere ben bene Che è diventato veramente alquanto carino E grazie Ho nato i due super fighe Insomma Ho messo l'arco Se lo vedete adesso Adesso ok Spada in lane Io l'ho presa da questa E io l'ho messa sull'arco E Tranne questo L'ultimo stadio E quello che devo fare Non mandava Però se vedete Anche il fuoco Anche se l'ho lasciato in 16 per C'ha dei quadratini un po' più scuri Quindi da quell'effetto L'unico che devo ancora ultimare È questo Perché non mandava di farlo Principalmente Ok ho sprecato una freccia grande Adesso se riesco a ritrovare anche Il corpetto Voilà È una cosa alquanto bella Ora Ci andiamo a fare il continuo del chest Perché se no Rimaniamo messi male Qua la gente continua a morire Implodono tutti Vi inviterei comunque a lasciarmi Già un like da subito Perché youtube Sta facendo alquanto schifo Ultimamente Ha riniziato a fare schifo con i feed Quindi l'unico modo È che voi Mi date una mano Lasciando un bel like Perché così almeno Facciamo vedere A youtube Che non ci servono I suoi feed Tutti fatti belli Ce li procuriamo da noi Se voi lasciate like Il video Viene passato a più gente Perché ci sono pure alcuni Degli iscritti miei Che ogni tanto mi scrivono sotto Nei commenti Non mi era arrivato il video Me lo sto vedendo ora Tipo con un giorno di ritardo Quindi Se te stai guardando questo video Lascia un like Così mi dai una mano A far vedere il video A tutti E siamo anche quasi A 1700 Stavo crescendo Veramente velocemente Però è sempre così Cresci tanto velocemente Quando poi c'è da superare Una soglia Stavo a 1600 Tutto velocemente Arriva a 1790 Ci metto gli anni Per crescere In un giorno Soltanto 5 iscritti Che prima ne facevo 10 15 E Vabbè Proprio piano ci arriverò Lo fanno apposta Quelli di youtube Appena vedono che arrivi A un traguardo così Ti bloccano La condivisione dei video Così dici Così cresci più lentamente E loro si sentono più soddisfatti Adesso se magari Ti vorreggiamo a prendere Le T2 Sarebbe una cosa Alquanto carina Perché sai Le T2 Potrebbero Rivelarsi utile Wow Le T2 di oggi Sono le T2 più belle Perfetto Tutta roba che non mi serve Grazie mille Ora Se io Prendessi invece Le T2 di qua Speriamo che in queste altre T2 magari trovi qualcosa Di più utile Perché potrebbe rivelarsi Veramente Veramente carina Vorrei pure parlarvi Di alcuni topic In particolare Che mi stavo strutturando Però Oh Questa Questa è bella Però Veramente Pure nel video di ieri Ve l'ho detto Voglio aspettare Per farmi lì Veramente strutturati bene Perché se no Parlerei a Vambra Magari di cose pure Non Non sicure Non certe Allora Ce ne andiamo di qua Ho condiviso anche su Twitter Un post Quindi andatemi a seguire Sempre su Twitter In cui dicevo Che Avevo una grande Grande idea Per lo speciale Dei 2000 iscritti Quindi Se vi interessa Perché poi ho detto Fatemi sentire un po' Il supporto Se vi interessa Come cosa E mi hanno fatto sentire Un gran supporto Piano piano di like Lì su Twitter Su quel post Quindi dopo Dopo gli andrò a scrivere Un po' Una mezzeria Di quello che avevo Per lo speciale 2000 iscritti Quindi voi Andatemi a seguire su Twitter Se volete saperla anche voi Se no Vi aspettate tranquillamente Quando uscirà Tra tipo 30 anni Comunque Un'altra cosa ancora Che volevo dirvi Tanto preoccupare tempo Prima che troviamo qualcuno È Del contesto Della miniatura Mi stanno arrivando Alcune miniature Alcune carine Tutte carine A loro modo Ognuno però C'ha più esperienza Di altri Quello è normale C'è sempre stata Sta cosa Però ringrazio Qualmente tutti Un'altra cosa Però a cui ci tenevo Da dirvelo È che Molti comunque Sotto quel video Mi hanno scritto Che partecipavano Quindi vi ricordo Che comunque Il contesto Non ha una fine Per adesso È sempre aperto Alla fine Ancora non so Quando la metterò Quindi siete sempre Tutti in tempo Per fare quella miniatura Perché alcuni ancora Me lo chiedono Non l'ho chiuso Quel contesto Ancora ci vorrà Prima che lo chiuderò Perché non ho in mente Di chiuderla adesso Con una data Quindi voi Siete liberi ancora Di fare la copertina Vi ricordo di farla Il prima possibile Perché Almeno così Non dovete stare A fare le corse dopo Perché molta Molta gente Aveva scritto Partecipo E poi non tutti L'hanno spedita Quindi quelle altre ceste Non me le in culo Di pezza E adesso andiamo Verso lo spawn Perché iniziamo Ad essere 5 Non vorrei Che ci sia Un bel team mozzo Perché Sarebbe molto Molto scomodo Se tipo Ci fosse Un bel team Full ferro Spare in diamante Su demon breeze Ecco Ho parlato Ho parlato Ok c'è un team E vai Perché non mi fa vedere Perché non mi fa vedere il team Vabbè Allora Andiamo sul full pelle Comunque Dobbiamo cercare Ah il full pelle Si è proprio dato Allora ci facciamo La spara in ferro E Vediamo un attimo Cosa riusciamo a combinare Perché il team Non ho visto Se fosse messo Estremamente bene Non mi era sembrato Però Non si sa mai Io però vorrei stare alla larga Sia dal team Che da chiunque Ok 3 Allora Ok Evitiamo di ammazzare lui Perché se ammazziamo lui Vada al deathmatch Con il team Non è una cosa intelligente Ah Quello è uno sieve Non ci credo Fiamo finta di niente Voi non avete visto niente Io allora Me ne vado un attimo così Almeno finisco di andare a fuoco E vai Quanto è bello andare a fuoco Ho perso tutta la vita Oh Vabbè calmate Mi hai tolto Oh Amico Ok Cioè Ti rendi conto Mi hai tolto sei cuori Va bene Allora noi ce ne andiamo Così recuperiamo Perché quello si sta avvicinando E io ancora non ho recuperato i cuori Sarebbe figo Se riuscissi a recuperarli Però se quelli si vanno a scontrare Io potrei andare verso di loro Anche se non ho recuperato pienamente Ma quello non è un problema Sarebbe figo Se riuscissi a fare first try E' carina pure come la serie Quella di wow With first try Primo tentativo Che gli esce tutto Ehi Ciao bellissimo Cosa vuoi tu? Ehi E' figo il tuo corpetto Ehm Sarebbe figo da avercelo Si Ehm Ah ah Ehi Amico Dove Dove scappi? Cioè io c'ho pure meno cuore Perché mi so buttarlo nella lava Da grande genit E scappi Vabbè scappa Dai su Io mi raccolgo un attimo le frecce Che despaunano Grazie frecce E adesso sono sicuro Al 100% Che quello ci random timma Ehi Sì Allora Facciamo così almeno Ci assicuriamo che quello Non random timmi Così almeno Siamo tranquilli Tanto non ci timiamo Però ci assicuriamo Che l'altro Non random timmi con lui Che cosa buona e giusta Perché se no Si fa un problema Di fondo E quello intanto freccia Vabbè Tu freccia Io mi aggiro così Molto molto sciallo Così intanto voi Fate quello che dovete fare Io mi metto a posto la roba Non siamo al centro Questo si che è bello Questo si che è bello Questo si che è bello Allora Noi Vediamo adesso Cosa riusciamo a fare C'è un po' di vetro qua La mappa di Demon's Breeze Non mi è mai piaciuta al massimo Per fare il deathmatch Però comunque Vai Belli loro Ah Sì Belli loro Mi sono piaciuti Grazie Spero che con questo video Vi sia piaciuto First drive Mamma mia la potenza Ci vediamo al prossimo Da Redder Black È tutto Lasciate un like Un commento Bella Ciao a tutti Ciao a tutti